eccoci finalmente sono quasi le ore 16 e siamo pronti a estrarre a controllare cosa è venuto fuori anche perché abbiamo dovuto anticipare leggermente i tempi perché sta proprio esplodendo la pizza quindi io l'ho nascosto dentro al forno ed è qua dentro e adesso abbiamo l'onore di tirare su e vedere cosa è venuto fuori si è appiccicchiato tutto noi lo stacchiamo e questo diciamo che lievitare è lievitata adesso noi procederemo in questo modo ovvero andando a stenderla e metterla nella teglia in modo tale che poi lieviti ancora un ciccinino e per la stesa ci sono diverse correnti di pensiero più di una corrente mi consiglia di stenderlo con le mani ma non è che ci riesco tanto quindi io sono più per l'uso del mattarello non è proprio tradizionale però io riesco solo con quello adesso allora staccare si stacca grazie all'olio che ci ho messo anzi si è staccata molto bene io andrei a fare su bene l'olio che era rimasto come si può ben vedere è elastico e morbido direi se non appiccica troppo le mani ha un bel mappazzone adesso lo dividiamo non verrà fuori una quantità mica no 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 Grazie a tutti. Adesso andiamo, l'assaggiamo, l'assaggiamo.